Sono molto curiosa di sapere cosa c'è lì dentro! Wow! Una collana! Che bello! Ora posso indossarla ed essere bella! Una collana? Ma che bel regalo che hai ricevuto, Julie! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Superfantastico! Daisy è proprio un pipistrello favoloso! Cominciamo ad agitare le braccia anche noi! Siete nella vostra bozzona? Perfetto! Ora conto fino a tre! Poi agitate le braccia con me! Abbiamo ancora il nastro colorato e lo strumentopolo misterioso! Che ne dite di usare il nastro per tenere chiuso il coperchio? Wow! Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme! È un'aquila! Abbiamo risolto il puzzle! Non è chiusa! Andiamo a spegnere quella stufa!